Il meteo di venerdì 22 gennaio, cielo nuvoloso con maggiori addensamenti a ridosso dei rilievi appenninici, precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o di temporale nelle zone interne e sparse altrove, temperature in aumento, venti moderati o tesi sud-occidentali e sud-orientali lungo la costa, con rappiche fino a tempesta violenta nelle zone montane e fino a burrasca forte sulla fascia collinare, mare mosso o molto mosso in serata.